Ciao, come stai? Bene, grazie. Ma tu lo sapevi che il 3 dicembre è la giornata mondiale sulla disabilità o diversabilità? No, non lo sapevo. Ma tu cosa ne pensi? Io penso che i tabli si devono rispettare. Tanto lo penso e penso che tu devono avere tutti gli stessi diritti. Andiamo a fare un giro? Ok. Mettiamoci nei panni delle persone con disabilità. I marciapidi sono troppo stretti. Ma qui c'è anche un palo. Non lo possiamo superare. Ma le persone con disabilità non possono e devono andare in strada per poter passare liberamente. Ora vi dobbiamo salutare, ma volevamo lasciare un messaggio. A casa Giove bisogna avere marciapidi più larghi per permettere il passaggio e non avere pali che interrompere il percorso. E avere delle salite per permettere anche alle persone disabili di poter salire sui marciapiedi. Noi in questo video abbiamo fatto anche la disabilità motoria. Ma ci sono anche altri tipi di disabilità, come per esempio la disabilità sensoriale, la disabilità intellettiva e la disabilità personal. Ciao!